... qui ci sono Don Luigi Sotti, molti ragazzi dei campi estivi di Libera. Vi saluti! E mi fa seriamente piacere salutarvi tutti, ho appena finito qui in Calabria un incontro con la gente. Grazie a tutti, un applauso, le urla. Eh, ma sono molto bravi gli scout, la Jaycee, 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 la Jaycee. E a questi giorni ho incontrato Bisaguino, 5.000 scout, più 1.000 capi, più 10 anni, si sono trovati proprio sui monti della Sicilia, provincia di Palermo, per una settimana di grande riflessione, di studio su questi temi. E mi fa piacere salutare questi amici che sono lì con te questa sera, perché la loro presenza moltiplica quella coscienza, quella sensibilità, quella responsabilità. Una terra va diventata come una terra di tutti i figli, di raccogliere, che vive dalle contraddizioni, ma che c'è anche il rapporto della speranza. Io vi ho avuto i figli, gli amuri più belli, gli amuri più veri. E auguro a tutti questi amici che sono liberi il campo di riuscire a portare avanti una strada con tre parole. Che vuol dire la continuità nel fare le cose, che vuol dire la condivisione, perché noi che vincere insieme, stare insieme, costruire insieme i percorsi, è ancora impossibilità, perché il cambiamento ha bisogno di qualcuno, di noi. E questo è l'augurio più bello, di colpare la vita di vita, di senso, di significato, di spendere un po' della nostra vita, proprio per dare una mano a ritrovare quella dignità, quella giustizia, quella libertà, la legalità nel nostro paese. Don Luigi, Don Luigi, ti interrompo. Come tu sai, noi siamo a Caivano, avrei letto, insomma, nelle ultime settimane le croneche. Ebbene, stasera ci sono ragazzi da Treviso, Modena, Bordenone, Seregno, Empoli, Assi, Gerenzi e Pato. Insomma, un grande pezzo di mondo che ti va a venire in mente. Va a venire in mente che le nostre responsabilità sono proprio di un atto d'amore verso il nostro paese, che è l'Italia, nord, sud, centro. Dobbiamo veramente costruire insieme i percorsi. Io sono un deneto, molto pieno di cammini in provincia di Belluno. E sentire che la provenienza di questi amici al libero di parte d'Italia è proprio questo saltare il nostro paese. Perché tutto il nostro paese ha bisogno di più democrazia, di più democrazia, di più dispera, di una maggiore attenzione delle facce deboli, dei poveri, degli ultimi. Abbiamo bisogno di colture, perché è la coltura che deve abbedire con gente. Abbiamo bisogno di assumerci di più le nostre responsabilità, come per la propria parte. A noi, al sud, al centro, questo mare per il nostro paese. A noi vi auguro a tutti di chiedere i tuoi grandi riferimenti. Il Vangelo è la Costituzione italiana. Cioè, la capacità della testimonianza del piano è una responsabilità. La capacità di sfruttare un piano con il cero. Questo mare è specialmente comunque. Don Luigi, allora io ti ringrazio, ti dono un abbraccio, so che sei in viaggio. Aspettate un attimo, perché adesso lo voglio davvero forte. Ti do un abbraccio, ti mando un abbraccio dal Vescovo, dal Parroco e ti saluto con l'abbraccio che sentirai della gente di Gaivano e dei ragazzi che sono qui questa sera. Grazie.